Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandra Gerardi, frequento la seconda N della Berengetto Croce. Ho 13 anni e oggi vi porto con me in una mia giornata della quarantena e vi faccio vedere come rimango in forma. Per colazione, more. Di solito faccio una bella corsa, siccome è una bellissima giornata, ne faccio una. Inizio con una camminata e poi inizio a correre. E di solito faccio due chilometri con l'orologio. Finita la corsa, vado a fare pranzo. Ora preparo pasta al ragù. E dopo mangiato faccio il mio allenamento che consiste nelle abdominalie, nelle braccia e nei glutei e faccio vedere alcuni esercizi di quelli che faccio. Prima di tutto faccio un po' di jumping jack, che si fanno così. Poi faccio per gli abdominali i plank, lo faccio di un minuto e uguale per quelli dall'altra parte e ancora dall'altra. Poi per i glutei faccio squat, faccio anche questi qui che sono ottimi. Poi un po' di stretching e ovviamente sto facendo vedere solo alcuni esercizi. E poi per le braccia faccio i push up e i barbies che sono le battite mani. Dopo l'allenamento mi stiro sulle scale, faccio vedere. E poi ci sono io che mi arrampico come una scimmia. Non consiglio farlo perché è pericoloso, però io lo faccio perché la faccio arrampicata, in particolare, però per cena probabilmente mangeremo un pollo con patate al forno. E sì, questa è la mia giornata in quarantena e questo è quello che faccio, quindi ciao a tutti! Ciao a tutti!